bene 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 allora oggi come preannunciato tratteremo di un argomento interessantissimo che è quello della comunicazione con i clienti luxury e nello specifico quello che sono le distanze nella comunicazione con i clienti luxury bene 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 allora come al solito vi do il benvenuto in questa diretta vi ricordo il business del lusso libro acquistabile su amazon per tutti coloro che si iscrivono al gruppo il business del lusso possono tranquillamente richiedermi il link per poter scaricare gratuitamente il libro e potete anche attivarvi per collegarvi al mio canale dove troverete in sequenza poi tutte le dirette interviste che facciamo durante questi giorni con con queste dirette sul gruppo e sul canale di youtube bene torniamo a noi oggi parleremo delle distanze della comunicazione che cosa sono le distanze la comunicazione è un argomento molto molto interessante perché al giorno d'oggi facciamo tantissimi errori nella nella comunicazione e quando parliamo con i clienti luxury la comunicazione è fondamentale per non farli scappare pette per tenerli poi agganciati a noi in base a quello che gli dobbiamo dire che cosa gli dobbiamo comunicare anche a livello empatico e che cosa vogliamo poi dal cliente come vogliamo farlo sentire perfetto perfetto allora vi dicevo oggi per quanto riguarda la diretta faremo e parleremo di questo argomento le distanze della comunicazione e andiamo a vedere nello specifico che cosa riguarda questo argomento nel libro ho fatto fatto sì che ci fossero degli spunti ok nel libro trovate tutto nel dettaglio su tutto quello che concerne la comunicazione che concerne comunque il l'erogare il servizio di lusso in tutte le sue sfaccettature ok bene veniamo a noi le distanze della comunicazione gli errori maggiori che vedo fare oggi per tutti coloro che erogano un servizio di lusso è nel sbagliare nel comunicare e dare tutto per scontato o additare dare la colpa alle altre persone o al cliente stesso e questo penso sia uno degli errori maggiori che possiamo fare naturalmente quando si commette un errore comunque quando non facciamo star bene un cliente il problema primario e iniziale parte sempre da noi che stiamo comunicando con il cliente giustamente lui viene da noi si aspetta determinate cose e noi le dobbiamo fornire ora parliamo della distanza nella comunicazione la distanza della comunicazione è fondamentale perché capita a volte che noi mettiamo a disagio un cliente a un cliente non capendo il perché ok quindi ora vi spiegherò la dinamica che sta alle basi del saper comunicare in una determinata distanza che si parlerà proprio di spazi ok qui sono proprio degli spazi che si invadono e degli spazi da rispettare ok allora sicuramente molti di voi avranno sentito parlare della prossemica e sono tutte quelle quelle tipo di comunicazioni che avvengono a determinate distanze proprio fisiche uno dall'altro ok bene quando comunichiamo con dei clienti laxie dobbiamo tenere benissimo a mente questi fattori ok allora ora vi do delle zone delle distanze per farvi per farvi capire più o meno quanto è l'aspetto e poi andremo un pochino più nel dettaglio per capire le dinamiche che si innescano poi con le varie distanze che ci che ci competono comunque ci rapportiamo con l'altra persona ora le distanze della prossemica sono divise in quattro in quattro aree quindi c'è la zona intima che va da 0 a 50 centimetri questa qui è per pochi intimi ok quindi tendenzialmente il tuo compagno la tua compagna è dedicato solo a pochissime persone ok poi c'è la zona personale che va dai 50 centimetri ad un metro ok questo tendenzialmente dedicata è una zona che concediamo agli amici ed ai familiari e c'è contatto fisico naturalmente e comunque serve per le persone che sono più unite poi c'è il contatto sociale ok quello che noi abbiamo diciamo con gli amici tendenzialmente e va da 1 a 3 metri è diciamo una zona che utilizziamo tranquillamente tra colleghi utilizziamo tranquillamente per incontri formali e incontri anche meno formali però comunque una distanza generica di comunicazione sociale ok quindi quando incontro un amico quando incontro un collega quando incontro un cliente tendenzialmente la zona sociale è quella che viene usata nella maggior parte dei casi e ripeto va da 1 a 3 metri quindi ricapitolando c'è la zona intima che va da 0 a 50 centimetri per poche pochissime persone che consentiamo di far entrare in questa zona intima sentiamo l'odore dell'altra persona e comunque siamo in contatto diretto c'è contatto fisico e quindi siamo molto vicino a quella persona poi c'è la zona personale che va dai 50 centimetri ad un metro ok tendenzialmente non si sente l'odore dell'altra persona e è consentito ad amici parenti e persone molto strette come dicevo la zona sociale che è quella che ci interessa di più in questo caso e maggiormente utilizzate che va da un metro a tre metri si usica per i colleghi incontri formali incontri informali ed amici naturalmente e poi c'è la zona pubblica che è oltre i quattro metri ok questa è una zona dove si percepiscono le persone tendenzialmente è una zona d'allerta solo per chi è molto famoso o comunque un personaggio pubblico ok perché in questa zona dei quattro metri vengono riconosciuti ok nella zona pubblica però se non c'è un personaggio pubblico comunque una persona relativamente famosa diciamo l'essere umano percepisce che c'è la presenza ma naturalmente si coglie l'attenzione solo nel momento in cui vedo una persona a livello sociale molto riconosciuta ok quindi zona intima molto vicini zona personale è quella degli amici parenti zona sociale colleghi e incontri di lavoro e la zona pubblica ok che entro quattro metri dove si percepiscono le presenze delle persone ok queste sono le quattro zone più importanti della comunicazione ok ora che cosa succede quando noi giochiamo nella zona sbagliata con la persona sbagliata ok mettiamo che io ho un cliente luxury ok si avvicina a me per chiedermi qualcosa informazione o qualsiasi cosa mi debba chiedere e io invece di parlare nella zona sociale ok mi metto in comunicazione nella zona personale quindi invece di rimanere a distanza di uno tre metri mi metto a distanza di 50 centimetri un metro magari perché voglio far sentire che sono vicino a lui voglio far sentire la mia presenza e comunico in una zona che in questo caso è molto sbagliata ok perché attiviamo delle dinamiche che sono controproducenti e fanno sentire il cliente a disagio sì il cliente si sente a disagio perché stiamo comunicando in una zona sbagliata ok non teniamo la giusta distanza dal dal nostro cliente o comunque dalla persona che si interfaccia con noi che cosa succede questo è proprio un fattore a quale non possiamo sottrarci perché sono dinamiche che scattano in automatico succede questo una cosa molto semplice sicuramente molti di voi conoscono l'esempio del leone della gazzella ok quindi c'è il leone che è a caccia a fame e c'è la gazzella che è la preda ok che cosa succede nel momento in cui un leone si avvicina alla gazzella la gazzella non scappa immediatamente la gazzella cosa fa da una certa distanza ok non considera l'eone un pericolo ok lo inizia a considerare come pericolo quando si avvicina ad una determinata distanza superata questa determinata distanza scatta in automatico nella gazzella gli allarmi ok e incomincia la fuga ok quindi il cervello animale è molto molto più semplice rispetto a quello umano perché quell'animale vive di istinti ok quindi nel momento in cui una persona sente che in questo caso scusate un animale sente che viene invaso una determinata zona ok che in questo caso è di pericolo ha la possibilità di effettuare la fuga ok che cosa succede negli esseri umani diciamo tendenzialmente lo schema è molto simile però noi non essendo animali ok il nostro cervello attiva tutta una serie di cose tutta una serie di dinamiche che ci fanno sentire magari a disagio o comunque ci rigidiscono ok ecco perché poi tutti i discorsi che vi faccio per quanto riguarda le dinamiche su come trattare un cliente l'action alla fine sono tutte collegate perché nel momento in cui io magari mi avvicino troppo senza rendermene conto ok e vedo che il cliente si rigidisce ok e comunque ha uno stato di ansia lo vedo da tanti piccoli fattori che sono dalle microespressioni vedo la rigidezza del corpo vedo il modo in cui come cambia il tipo di respiro o cose del genere sono tantissimi dettagli che io posso notare nel momento in cui faccio qualcosa di sbagliato ricordo nel libro trovate tantissimi spunti su questo e che cosa succede dicevo non essendo animali l'uomo si rigidisce ok ha un senso di ansia angoscia poi naturalmente ognuno la vive in modo più o meno accentuato dipende poi naturalmente da persona a persona però sicuramente ci sarà un piccolo disagio ok facciamo ad esempio facciamo un esempio molto molto classico se io devo andare abito al quinto piano devo andare a casa prendo l'ascensore e nell'ascensore trovo un estraneo ok l'ascensore è piccolo per forza di cose io devo essere in contatto con con questa persona in una zona personale quindi una zona a quale concedo solo a persone a me più care ok uno sconosciuto non è una persona a me cara e possiamo vederlo tranquillamente chi più chi meno in ascensore se è piccolo e siamo vicino c'è quella sensazione di disagio che è da entrambe le parti ok e questo si attiva per questi fattori ok e come sapete dall'esperienza personale comunque non è una sensazione diciamo positiva una sensazione che ti fa stare rilassato sereno o quant'altro è una situazione che un disagio piccolo o meno piccolo comunque lo arrega ok e nel momento in cui noi parliamo con un cliente luxury e ci troviamo di fronte a lui e sbagliamo la zona della comunicazione capite da voi che inneschiamo tutta una serie di meccanismi sbagliati ok che poi portano ad esiti negativi ok e nel momento in cui noi ci interfacciamo con una persona il primo impatto che abbiamo è quello più importante perché il cliente si fa un quadro generico di quello che siamo noi e quando una persona si fa una prima impressione esatta o sbagliata ok nel resto della comunicazione è sempre alla ricerca delle conferme del preconcetto comunque dell'idea che si è fatta dire perché quando io mi faccio un'idea di una persona è molto più difficile poi cambiarla ok sto sempre e soprattutto i clienti anche questo lo fanno in maniera automatica naturalmente cercano sempre conferme di quello che hanno pensato all'inizio di te ok quindi è molto molto importante tenere in considerazione queste cose perché ti fanno fare poi la differenza con il cliente ok è lì e sono tutti questi piccoli dettagli che stiamo vedendo giorno dopo giorno che ti permettono di poi di avere poi una comunicazione efficace con il cliente e portarlo dalla tua parte a volte quando i clienti parlano con me dico giuseppe ma io non so non so perché però con te mi trovo molto meglio che a parlare con xy oppure voglio avere a che fare solo con te perché solo tu mi capisci ok non sono un mago ok però sto attento su tante cose che sono importanti ok sono sono cose che prese una ad una sono molto semplice ok il fatto sta a me nel metterle tutte nella casella giusta al posto giusto al momento giusto ok e lì potrebbe essere un pochino più complicato ma applicando poi tutto quello che che vi spiego vedrete che facendo un po di pratica verrà tutto in modo molto molto naturale molto molto più fluido e sicuramente avrete delle risposte molto positive dai clienti in varissimi ambiti ok perché poi quando impariamo a trattare questi clienti veramente diventa molto molto più facile fare tantissime tantissime altre cose quindi ricapitolando quello che che vi stavo dicendo oggi le distanze della comunicazione sono molto importanti ok molto importanti i clienti che si approcciano a noi ok inconsciamente tengono sempre una distanza con l'interlocutore ok vi ricordo le zone della comunicazione c'è la zona intima zona personale zona sociale e zona pubblica ok noi tendenzialmente all'inizio quando ci approcciamo al cliente dobbiamo rimanere nella zona sociale che è quella che va da uno a tre metri ok naturalmente nel momento in cui mi presento una persona mi avvicino per presentarmi ok in questo periodo che non ci possiamo toccare naturalmente non ci sono strette di mano quant'altro sicuramente il discorso di oggi con le dinamiche che abbiamo in questo momento sono sono un pochino diverse però tendenzialmente quando torneremo poi alla normalità sicuramente incontreremo delle persone sicuramente queste dinamiche rimarranno comunque le stesse perché sono dinamiche evolutive ok è il cervello proprio rettile che innesca determinate reazioni in modo automatico ok non sono date dal ragionamento non sono date da tipologia di persona dal comportamento dal carattere ok sono dei schemi automatici che il cervello attiva ok come reazione all'attacco e alla fuga ok se fosse un animale tu entrassi nella mia zona intima senza il mio permesso io ti attaccherei ok dato che siamo esseri umani questo non succede però ho un grosso disagio ok immaginiamo che arriva da te uno sconosciuto e ti abbraccia ok capisci che tu rimani un pochino un pochino a disagio non vuoi essere toccato lo allontani ok non non l'uomo comunque non tende a contrattaccare perché è una situazione estrema il contrattacco dalla parte dell'uomo è veramente una situazione molto estrema però il il cervello attiva tutte le dinamiche come se lo volesse fare ok però innesca tutta una dinamica di di sensazioni ok di disagio tendi subito ad allontanarti perché vuoi scappare ok quindi teniamo ben a mente queste queste dinamiche sulla distanza della della comunicazione ricordiamoci che se ci avviciniamo troppo diamo disagio al nostro cliente e naturalmente non è la cosa che vogliamo ok quindi vi rifaccio un piccolo riepilogo delle distanze zona intima da 0 a 50 centimetri ok solo per persone a noi molto intime la zona personale da 50 centimetri ad un metro questo va per i familiari e amici stretti poi abbiamo la zona sociale che da 1 a 3 metri questo per colleghi e situazioni sociali incontro con i clienti e così via e poi c'è la zona pubblica che va da una distanza di oltre 3 o scusate oltre 4 metri in questo caso percepiamo le persone intorno e ci spiccano all'occhio solo le persone che sono particolarmente famose o comunque particolarmente eh importanti nel contesto sociale che loro vivono ok quindi mi raccomando teniamo a mente la la distanza della comunicazione quindi quando arriverà un cliente capisci eh quali sono le distanze te le ho elencate quindi mi raccomando mi raccomando attieniti e soprattutto all'inizio eh rimane in sicurezza restando nella zona sociale che ripeto è quella che va da 1 a a 3 metri e cerca di non invadere i sui spazi altrimenti si creano delle dinamiche assolutamente non positive ok bene bene quindi ragazzi allora io vi ricordo il libro qui trovate eh tutta l'argomentazione con anche dei piccoli schemi per farvi capire meglio eh come funziona questo discorso della distanza della comunicazione e il libro lo trovate su amazon vi lascio qui sotto naturalmente il link come sempre vi ricordo per chi non fosse iscritto di iscrivervi al canale di youtube e nel gruppo di facebook dove condividiamo informazioni e libri e film da vedere soprattutto in questo periodo quindi eh c'è uno sharing di di tante informazioni eh mi state dando tanti feedback positivi quindi sono molto contento di questo naturalmente vi aspetto nel gruppo e sul canale ok spero che l'argomento di oggi vi sia piaciuto se è così condividete questo video ok e vi aspetto su sui vari canali social del business del lusso tips ok io vi ringrazio enormemente vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo nel prossimo video ciao